Signori, è arrivato! Chi è arrivato? Sguè? È arrivato l'arrotino! Arrotta forbici, forbicine e coltelli! Cioè, ma che domanda è? È arrivata la parte più bella di ogni set, ovvero l'inizio del master set con un album nuovo dei pacca! Ho già preparato tutte le carte in monocopia, quindi ho escluso le doppie, che andremo ad inserire in album tra pochissimo e udite, udite, un bellissimo set allenatore con i classi di Corona Strale! Perché ancora? Non l'avevamo aperto! Ma che vergogna è? Così ci andremo a prendere ben due p-dub con un c-waddle! Mamma mia, sguè, un colpa al cuore! Non mi fare più sti parallelismi! Beh, rumio, la smetterò, la smetterò! Ma non oggi! E quindi, prima di immergerci in questo nuovo master set, vi chiedo massimo supporto, beggi miei! Con un bel mi piace e l'iscrizione al canale! Culla campanellina, eh! Ding, ding, ding! Inoltre, vi ricordo che da questo mese il codice Sguene lo potete utilizzare ben due volte nello stesso mese sul Federick Store, in cui potrete acquistare tutti i migliori prodotti Pokémon con il 5% di sconto e ricevere in omaggio una delle mie tantissime carte autografate! E state attenti, perché tra le carte che ho mandato ho nascosto delle pecorelle troll che vi faccio vedere qua, che se beccate mi mandate la foto su Instagram e vi mando un video dedicato a beggi miei, solo per voi! E adesso basta! Cominciamo! Mamma mia rega, ma quante sono? Guardate, guardate! Adesso le andiamo a mettere tutte in album! Ma quanto godo! Però le mettiamo un attimo da parte perché devo farvi vedere quest'albumino, che è la prima apertura di un album e sempre una goduria, perché sapete meglio di me che c'è questa velina che è tanto bella quanto inutile, perché poi la butti. E se ve lo state chiedendo sappiate che tutti i prodotti che utilizzo, quindi album, sleeve e qualsiasi altra cosa, la trovate sempre nel primo commento, trovate tutti i link diretti all'acquisto. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito dalla prima carta, intanto vi faccio vedere che la disposizione è sempre la stessa ragazzi, quindi stessa carta, reverse davanti, regular dietro, tutte e due nella stessa sleeve e poi all'interno della tasca. Per quanto riguarda le carte olografiche, faccio la stessa cosa, olografica dietro e reverse davanti, se non c'è come in questo caso significa che mi manca. Se invece vedete carte al contrario, significa che io la reverse, ma mi manca la regular o la 1. Cioè sto sbagliando tutto, tutto sto sbagliando, perché la prima carta è Venusaur. Se volete ascoltare delle curiosità su queste nuovissime carte di Corona Strale, vi invito a recuperarvi gli ultimi due video che sono usciti e poi passate a quest'altro, così già avete una bella infarinatura di tutte le artwork stupende che abbiamo all'interno di questo set. Man mano che inserisco queste carte, se noto qualcosa di cui ancora non vi ho parlato, rallento il tutto, ma velocizziamo un po'. Una cosa importantissima per evitare di sbagliare e poi dover uscire fuori tutte le carte e rimetterle dentro, guardate sempre che l'ultima carta della pagina sia un multiplo di 9, quindi 9, 18, 27, 36, 45. Se non lo è, significa che state sbagliando qualcosa. Di questa carta sono sicuro di non averne parlato. Eccolo qui, il Cubone di SVLT, un illustratore nuovo per quanto riguarda il mondo Pokémon che ha disegnato solo due carte al momento. Questa è una e l'altra è un Sigiliff di uno Starter Set giapponese. Un'altra carta che sicuramente non abbiamo ancora visto per bene è questo Swalot, che sembrerebbe un'illustrazione banale, ma io ci vedo tantissimo il richiamo di questo copertone di una ruota nella gola di Swalot. Cioè, guardate qua, ci sta da Dio! E questi sono quei dettagli che mi piacciono, che mi piacciono davvero tanto. Dovete sapere che questa, per me, è la carta più bella del set. E andando a curiosare fra le carte di quest'artista, mi sono accorto che ne ha disegnate solo quattro e sono una più bella dell'altra. Io non so se ci rendiamo conto delle bombe che ha disegnato. Gardevoir, Lifion, Sylvion e Girachi. Questi sono i veri artisti che fanno la differenza in un set che tu ricordi per sempre. Che spettacolo, regà! Mamma mia! Regà, io non ce la posso fare. Mi manca il Fletching del 122 regolare. Ma come si fa? 72 bustine, mi manca ancora una comune. E proprio di questa carta ve ne voglio parlare. Dovete sapere che l'ha illustrata Julie Ang. E chi è? È una disegnatrice che nel 2022 ha vinto, insieme ad altri due artisti, l'Illustration Contest 2022 per l'appunto. Disegnando questo meraviglioso Bulbasaur. E Pokémon, dopo due anni, decide di ingaggiarla per fare una carta di un set. Vedete come nella vita, se una persona ci sa fare, si mette in gioco e non si arrende, sfrutta tutte le opportunità possibili, viene notata e viene scelta? Questo per dirvi, ragazzi miei, che non dovete mai arrendervi. Se c'è qualcosa che siete convinti che sapete fare bene, continuate, perché è solo questione di tempo. Poi abbiamo questo Buloo, che da essere un Pokémon meme, è diventato un Pokémon meraviglioso. Guardate qua. E il primo step l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda le carte Regular, Olo e Reverse, sono tutte in album. Come vi dicevo prima, se vedete qualche carta sotto sopra, significa che mi manca o la Regular, o la carta Olografica. Ok. Ci sono diversi buchi, ma la maggior parte sono EX, o Asso Tattico, nel caso delle carte Allenatore. Come ben sapete, qui lo lasciamo bianco, dopo l'andiamo a decorare, come sappiamo fare noi, e partiamo dalle fuori serie, proprio da qua. Però prima abbiamo qualche Pool del Main Set, da andare a sistemare. E quindi si parte da questo Venusaur, disegnato da Ayashiro, che è la carta numero 1. Si continua con la numero 28, Cinderace EX. Eccolo qui, lo andiamo a mettere accanto a Sharkadet. Si continua nella stessa pagina, con questo Lapras EX. Mettiamolo qui. Nella pagina accanto, abbiamo il Greninja EX. Ma ti devo dire che, tutto sommato, non siamo messi male, continuiamo con il nostro Canepane. Ma quanto lo amiamo, questo Canepane? 67 Duchess Ban. Quanti ne abbiamo trovati? Quanti? Ce l'abbiamo in tutte le versioni. Poi abbiamo anche il Medicham EX, anche lui trovato tipo triple W. Continuiamo con la 82, che è Lucario EX. Eccolo qui. La 89, che va qui, è Garganacol EX. E la numero 105, è Melmetal EX. Regà, basta stampare Melmetal, basta, l'abbiamo capito, si fissano su certi Pokémon, non lo so boh. Andiamo con la 134, che è Bomba Deluxe. E l'ultima, che è la 142, è il Cristallo Scintillante. Eccolo qui. Adesso che ci sono anche pull, controlliamo un attimino la situazione. Io direi che, non ci possiamo assolutamente lamentare. Sì che il set è piccolo, perché comunque il main set è di 142 card. Sì che abbiamo aperto 74 bustine, quindi te vorrei credere, peggio di così, no. Quindi come dicevo, andiamo qui, e cominciamo con le nostre fuoriserie. Cominciamo da questo Ladian, che all'inizio lo amavo, poi l'ho odiato, perché veramente, trovare le carte doppie manco tempo, no, anche no. Continuiamo con Meditite, una delle mie carte preferite di questo set spettacolare. 105, quindi già, già, da una pagina all'altra andiamo. Qui abbiamo l'ultima illustrazione, perché sì, su 74 pacchetti ho trovato solo 3 carte illustrazione. La 155, e passiamo all'Etera Astral, con questo Sinneris EX, la 157, che mettiamo qui. Passiamo a questo Lapras, che è la prima carta importante, che abbiamo trovato in Corona Astrale. Oh, tutte le fila. Galvantula, la 159, che mettiamo qui. Poi abbiamo i Dreadful, che in realtà andava prima, perché è la 156, quindi la mettiamo qui. Ma che bello, mischiate! Perché poi abbiamo un'altra Full Art, Duchess Ban EX, c'è ste Full Art, messe in mezzo, alle Tera Astral Full Art. Boh, stiamo completando la pagina. Poi abbiamo la 162, quindi 1 e 2, che è Earthworld EX. La prima illustrazione speciale, Duchess Ban EX, la 169, e chiudiamo, perché è l'ultima carta che ho al momento, con Terapagos EX, illustrazione speciale. Mamma, mamma, ancora ricordo, quando l'ho trovata, mamma, come esultato. E adesso che l'album è pronto, mamma, subito, ce l'andiamo a spacchettare, subito. Mettiamolo un attimo da parte, perché non sia mai che si rovina, e andiamo subito a gustarci questo ETV. Sentilo, sentilo. Questa donnata, ragazzi, lo sentite il rumore? Andiamo a togliere il primo involucro, che nasconde una bellissima immagine, che vi faccio vedere. Ed eccola, Terapagos, Cinderace, Lapras, e Galvantula. Insomma, i nostri protagonisti. Poi abbiamo la nostra amata, Guida Sciocator. Guardala, guardala. Possiamo finalmente andarci a vedere tutte le carte da qua. Mamma, ma come faccio a non avere ancora le carte più belle? Rabut, Squirtle, Zeroora, Bulbasaur. In totale sono 175. Se invece non siete amanti del cartaceo, e volete segnare tutta la vostra collezione digitalmente, potete soffrire del servizio messo a disposizione gratuitamente dal Federic Store, per segnare tutte le carte della vostra collezione. Vi basterà loggare con la vostra mail, ed il gioco è fatto, potete iniziare a segnare tutte le carte che ci avete. In questo modo, che voi siate in fiera, in qualsiasi altra parte del mondo, potrete guardare le carte che vi mancano. Simpatico anche queste TB, dai, quelli di Pokémon sono bravi a far ste robe. Andiamo però a odorare, perché io amo l'odore della roba nuova. Mamma. Troppo forte era. Non è che è brutto, troppo forte, troppo forte, proprio lasciatelo svaporare un poco, perché sennò morite. Bello, bello, basta, non noto più. Togliamo questo. Slivettine di Terapagos, vediamo se sono opache o lucide. Regà, sono lucide. Sono lucide, queste si possono tranquillamente utilizzare anche per tenere le carte in album. Spettacolo. Mazzettino di energie, dadini e segnali listato. Non me lo dire. Per evitare che la promo si pieghi l'hanno unita ai divisori. Ma siete più forti. Mi è piaciuta questa idea, bravi. Fra l'altro, bel Noctowl, guarda qua. Illustrata da Kayama con questa tecnica molto puntinata. Guardate l'effetto degli occhi, spettacolo. E si passa alle nostre, speriamo, 9 bustine. 4, 6, 8 e 9. Bene. E adesso, riusciremo a trovare qualche carta mancante? Mamma mia. Ma che? L'ho sventrato veramente? Cominciamo con Slowpoke, Froakie, Lediba, Rotom Vortice, Lapras, Mien Shao, Salazol, Rhyorns, di nuovo, Salazol e Dreadnau. Prima bustina, liscio, pesante proprio. Vediamo se Lapras ci porterà fortuna. Questi sono... Ma non è possibile, raga, cioè non è che è la prima volta che avrò i pacchetti. Questi mi si sfondano in mano. Lediba, Rotom Vortice, Mien Fu, Rotom Tayo, Tornadus. Mamma, 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 calmo, 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 vedo, 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 Utoot, mamma mia, I TREPOR, illustrazione speciale, ma prega, c'è altre due illustrazioni speciali, forse tre, non mi ricordo, abbiamo finito tutte le illustrazioni speciali, quattro che figo, ma questo è set mio, e tutte le carte mie, io stiamo trovando, tranne Boobasello e lo Squirtle, mannaggia veramente, che bella, illustrata da TZIRA, a cui ultimamente stanno affidando diverse illustrazioni speciali, ricordo che su Cronoforze ne ha disegnate parecchie, ma quanto è bello questo stile orientale, mi piace un botto, tutti questi aprile qui intorno, sono troppo felice, come bambini, al cremi, mamma che bello, subito in album, subito, 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 ancora una rapida occhiata, e l'andiamo a mettere qui, vai, 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 regà ve lo giuro, non mi sembra vero, veramente assurdo, cioè, queste bustine delle TB, sono decisamente più fragili, di quelle del box, non vorrei che sia impressione mia, ma penso di no, Ponsier, Maitite, Ressiram, Swat, Togdemaru, 12 Scurvers, e dammela l'illustrazione, dammela, ma questo è l'ETB mio, l'ETB della vita mia, è Blastoise EX, e anche lui mi manca, mi manca, vedi, se non c'è il Master Set, dove te lo infili, dove te lo infili, non mi fare parlare, in album, in ogni caso, sempre in un album, li infilerai, ne sono sicuro, e lo andiamo a mettere qui, molto, molto, molto bene, passiamo all'altra, ok, ah, vedi, vedi già questa, vedi già questa è più resistente, e si vede quando è più resistente, Scorbani, Fossil Tappo, Punch Am, tu la la due, regà, è un ottimo inizio, e uno, se continuiamo così, finiamo il Master Set, questo è TB, ovviamente scherzo, e dietro, un Cradley, ovviamente come sempre, sappiate che le reverse, per questione di tempo, le guardo dopo, ma le guardo tutte, vedo se ce n'è qualcuna che mi manca, niente, anche questo si è aperto così, ma evidentemente, porterà fortuna, aprire i pacchetti così, Clink, Turtonator, Impedim, fra l'altro, non è che il Fletch Indale l'abbiamo trovato, ancora non l'abbiamo trovato, e non vuole uscire, Paragree, Girashi Reverse, che mi mancava sicuro, e Zero Aura, quanto strano è questo Paragree, con sto sguardo che sembra perennemente arrabbiato, e poi cerca le coccole, Bedrumio, vieni qua, fammi le fusa, che ti faccio i grattini, ancora quattro pacchetti, ci abbiamo regà, quattro pacchetti, e già abbiamo, un'illustrazione speciale, e un EX, dai, io lo so che tu mi fai sognare, lo so, lo so, un'aria, cioè, Bedrumio, vieni qua, ma non è che mi devi saltare addosso, che muo in ogni pacchetto ti trovo, e ciao, non lo so, Tirtoga, Meltan, boh, ah, eccolo, Fletchinder, che bello, questo mi manca, quindi già lo mettiamo da parte, Mewtwo, Crabominable, Talonflame, Slowpoke Reverse, Tirtoga Reverse, e Massoferrio, Sgue, mi sa che, quello che dove è uscito, l'ETB è uscito, non è vero, non è vero, cioè, sono tipo i pacchetti giapponesi, raga, si aprono a metà, così, ole, Ponita, altra arte che mi fa impazzire, Milstery, Glammiao, Toydscrew, Gemma, Veluza, ah, che bello, pure quello reverse abbiamo trovato, molto molto bene, 0 ora reverse, e chiudiamo con, Grimmsnarl Solo, ancora, altri due, e abbiamo chiuso, questo ETB, raga, anche se non troviamo più niente, sono molto soddisfatto, sincero, molto soddisfatto, c'è un ETB, e ti va a beccare l'illustrazione speciale, ma, ti capita una volta, ogni non so quanto, ce ne vuole veramente tanta, ma, tanta, di fortuna, figuratevi che ne ho trovata una sola in un box, ed è stata pure fortuna, perché ormai, il purretto è sceso, quindi va, sono veramente felice, ottimo, Rea, Azumarill, chiudiamo con, non ci posso credere, ma che ETB è, ma è spettacolare, este ETB, Turtonator Reverse, e Turtonator Illustrazione, che esce dalla sua Tana, con le mani così, molto timidino, ma che carino, perché se guardate attentamente, sta piovendo, e quindi, sta aspettando, che smetta di piovere, dato che lui è un Pokémon, di tipo fuoco, per poter uscire, bello, bello, tanta roba, e attenzione, perché, potremmo trovare ancora, una Full Art, una EX Regular, vediamo, no, andiamolo a mettere in sleeve, qualcuno che fa compagnia a questo Lady, ci voleva, eccolo qua, e per oggi, abbiamo dato, ragazzi, io sono davvero sbalordito, da tanto tempo, che era un Beck on set, in cui ho così, tanta fortuna, è il mio momento, come vi devo dire, e se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di andarti a recuperare, questi altri due video, che sono molto interessanti, lascia fare lo zio.